Gentili colleghi, oggi vi presentiamo il caso di una gestante alla ventiduesima settimana, giunta alla nostra osservazione per effettuare uno screening del secondo trimestre. Al controllo ecografico abbiamo riscontrato la presenza di numerose calcificazioni epatiche lungo la glissoniana e qualcuna anche in traparenchimale. L'incidenza di tale reperto è di circa un caso ogni 1750, tra le 15 e le 26 settimane di gestazione. Si tratta di solito di calcificazioni singole, possono riguardare sia la glissoniana sia il parenchimo epatico e generalmente, se ne coinvolgono altre strutture, hanno una buona prognosi. Tuttavia, la comparsa di queste calcificazioni tra la ventesima e la trentesima settimana impone uno studio dettagliato di tutti gli apparati. In particolare, osserviamo l'addome, andando a studiare la milza, per escludere una splenomegalia. Il fegato, per escludere epatomegalia e i seni di ascite. Andiamo ad osservare l'intestino, che in questo caso appare di regolare ecogenicità e non vi sono alterazioni come dilatazioni di anse o anse per ecogene. Andiamo inoltre ad osservare dettagliatamente le strutture cerebrali, per escludere la presenza di calcificazioni anche in questa sede, per escludere idrocefalia, ventricolomegalia, alterazioni cerebrali e studiamo con attenzione il corpo calluso. Osserviamo inoltre i cristallini, per escludere una cataratta congenita. Andiamo anche ad eseguire uno studio attento del cuore, per escludere i segni di scompenso cardiaco e fusione pericardica. Andiamo a studiare la velocità standard sulla orta e sulla polmonare. Osserviamo il torace, per escludere i durotorace. Osserviamo attentamente il liquido amniotico e placenta, per escludere oligoamnios o alterazioni delle costrutture placentare ed un eventuale per placentosi. Studiamo accuratamente la biometria fetale, per escludere un ritardo di crescita. Nel nostro caso abbiamo riscontrato solo una biometria del femore al 14%, ciò ci ha spinto ad allargare lo studio alle displasi osse, anche se nel caso in esame siamo ottimisti, in quanto la biometria delle altre ossa lunghe era regolare. Dunque, quale deve essere l'iter da seguire per la gestione del caso? Innanzitutto va effettuato un accurato counseling alla cuppia sul significato di tale reperto ecografico. Attraverso un'informativa, la paziente deve essere resedotta che è necessario andare a discludere cause infettive mediante l'esecuzione di un pannello infettivologico. Questo, nel caso in oggetto, era già stato effettuato e l'esito era negativo. Chiaramente, il pannello infettivologico deve comprendere il complesso TORC ampliando lo studio a patogeni meno frequenti, come coxacchievirus, parbovirus B19 ed Epstein-Barr. Va consigliato di eseguire una consulenza genetica, essendo alcune cromosomopatie causa abbastanza frequente di calcificazioni epatiche singole. Nel nostro caso, la paziente aveva già effettuato omniocentesi per l'esame del cariotipo e arrei CGH in attesa di risultato. Inoltre, aveva effettuato uno studio delle mutazioni della fibrosi cistica. In considerazione della biometria del femore al 14% abbiamo consigliato alla gestante di praticare sul liquido amniotico il pannello delle displesie ossee, in particolare quello delle displesie rizomeliche. Infine, per la gestione, va effettuato un controllo ecografico a distanza di 2-3 settimane per valutare un'eventuale evoluzione peggiorativa del quadro, escludendo quindi lo sviluppo successivo di ascite, sprenomegalia, idrotorace e segni di scompenso cardiaco o idrocefalia ed alterazioni di velocità sulla cerebrale media. Va quindi resedotta la gestante che dovrà eseguire diverse indagini alla nascita con controlli pediatrici nei mesi successivi. Vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.